Era la mattina del 20 dello scorso mese in coro, dopo la celebrazione della Santa Missa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu un totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno e mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente, che aveva le mani e i piedi ed il costato, che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce, ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La verità del cuore gitta assinuamente del sangue, specie dal giovedì a sera fino al sabato. Padre mio, io muoio dal dolore per lo strazio e per la confusione sosseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore. E con ritirare da me questa operazione mi farà questa grazia a Gesù che è tanto buono.